Gli agenti non hanno fatto altro che chiedere dei documenti per identificare la persona che era stata violenta e a quel punto c'è stata un'ulteriore reazione. Gli agenti hanno cercato di portare questa persona al comando dei vigili, ovviamente hanno dovuto agire evitando guai peggiori in mezzo alla gente, in mezzo alle persone che passeggiavano ieri pomeriggio e quindi c'è stata quella scena che è sicuramente una scena non edificante, ma io esprimo piena solidarietà agli agenti della Polizia Municipale perché nel momento in cui qualcuno viene fermato e gli si chiedono i documenti, credo che non debba fare altro che consegnare quei documenti e non evitare di consegnarli offendendo gli agenti della Polizia Municipale.